Una squadra rinnovata quasi per la metà, quattro i volti nuovi su nove rispetto alla passata legislatura. Ieri l'assegnazione delle deleghe ai componenti della giunta Mascibis con il primo cittadino a casa a smaltire il Covid che si è tenuto per sé diverse deleghe pesanti come lavori pubblici e urbanistica. La parte del Leone l'ha fatta Forza Italia con cinque assessori, tre per Fratelli d'Italia e uno per la Lega. Un breve riepilogo partendo dai nuovi assessori. Cristiano Orta, il campione delle preferenze alle elezioni di giugno, gestione parchi e manutenzione del verde pubblico ma anche gestione rifiuti. Valeria Toppetti, pubblica istruzione ed elisia scolastica, pari opportunità. Massimiliano Pignoli, protezione civile, politiche per la disabilità, associazionismo sociale. Zaira Zamparelli, attività produttive e turismo. Questi invece i confermati. Eugenio Seccia, bilancio e finanze e personale. Patrizia Martelli, sport, associazionismo sportivo e politiche giovanili. Alfredo Cremonese, eventi e manifestazioni turistico-ricreative, edilizia residenziale pubblica. Adelchi sul pizio, politiche sociali, mobilità, viabilità e trasporti. Maria Rita Carota, politiche culturali e cimiteri. Quest'ultima ricopre anche la carica di vice sindaco, prima volta per una donna. Non ne farei una notizia, nel senso che fino a quando sarà una notizia vuol dire che non abbiamo ancora raggiunto quella cosiddetta parità. Certo, fa piacere essere ricordati per essere la prima in qualche ruolo particolare, però mi piacerebbe essere ricordata come una persona che ha lavorato, ha lavorato bene per la città e per i cittadini. C'è il ruolo istituzionale, però anche le deleghe e lei ha conservato quella alla cultura. Le fa piacere questo? Sì, sicuramente mi fa molto piacere. È stato fatto un lavoro molto importante nel mondo culturale cittadino. Mi viene da pensare al lavoro che è ancora in corso per quanto riguarda la creazione del polo bibliotecario a Ternino, il progetto di intesa pubblica privata per la valorizzazione del Museo Vittoria Colonna, ma anche i lavori che si stanno completando per il Museo del Mare. Insomma, tutta un'attività culturale che sta portando la città di Pescara sempre più in alto.